Orto biologico, prodotti da agricoltura biologica, rigorosamente controllati e certificati in via Vittorio Veneto 318 Cava dei Tirreni. Il 2016 si è chiuso con una buona notizia a Cava dei Tirreni. Infatti la giunta regionale della Campania lo scorso 13 dicembre ha dato il via libera al piano regionale di bonifica di siti inquinati. Nell'elenco, pubblicato soltanto qualche giorno fa sul bollettino ufficiale della regione Campania, c'è anche l'ex discarica comunale di Cannetiello. Nello specifico il progetto di ripristino ambientale messa in sicurezza permanente dell'ex discarica, considerata una vera e propria bomba ecologica, è quello redatto nel 2007 e prevede il cosiddetto capping, ovvero l'impermeabilizzazione dell'area inquinata, in modo da evitare infiltrazioni di acqua piovana che rischierebbe di far penetrare del percolato nella falda acquifera sottostante, nell'attesa che si completi il fenomeno di mineralizzazione in atto e che dovrebbe concludersi in un ventennio. Inoltre, prevista anche la rimozione di tutte le opere non più necessarie, al fine della totale naturalizzazione dell'area con la messa in dimora di nuova vegetazione. Nel marzo 2014 l'area della discarica, a seguito della fuoriuscita di un rilevante afflusso di percolato proveniente dal corpo della discarica e che confluisce alle vasche di raccolta, fu sottoposta a sequestro dai carabinieri della locale tenenza. Da allora la situazione della discarica, costantemente monitorata, ha fatto emergere l'urgenza e l'indifferibilità della realizzazione del progetto di sistemazione definitiva. L'intervento di bonifica, quindi, sarà finanziato interamente dalla Regione Campania e costerà 2 milioni e 448 mila euro. Essendo un sito di proprietà privata, l'intervento di messa in sicurezza dell'ex discarica di Cannetiello, così come richiesto esplicitamente anche nella delibera della Giunta regionale, sarà eseguito in danno del soggetto privato. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Vincenzo Servalli. Si tratta di un passo importante che ci consentirà di estinguere il mutuo ventennale acceso dalla precedente amministrazione, alleggerire la situazione debitoria del Comune e liberare spesa corrente per strade, scuole e palestre. Per me, prosegue Servalli, la svolta buona è questa, ovvero tutto quello che distingue il nostro modo di operare a fronte della fallimentare esperienza precedente. Parole queste che hanno fatto infuriare l'ex sindaco Marco Galdi, il quale ha prontamente replicato. Evidentemente Servalli non sa che il nostro Comune ha avuto il finanziamento, in quanto la precedente amministrazione ha fatto il progetto, ha ottenuto tutti i pareri, l'ha reso cantierabile, permettendo l'inserimento della nostra discarica tra quelle beneficiarie di finanziamento. Mentre lui, insiste Galdi, ha dovuto attendere soltanto lo sblocco delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. In città, però, non mancano coloro che sollevano dubbi sull'efficacia dell'intervento.